Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come trovare la lama gemella di Eleonora questa è la posizione esatta dove trovarla, dirigetevi qui alla chiesa ragazzi un breve video su come trovare questa lama gemella, molto semplice e se ne volete un'altra vi consiglio di farvi un altro viaggio qui sponerà un malvagio, un tizio dalla pozza di sangue, non questo ma un altro che è tutto rosso perché questo è molto semplice da uccidere e guardate un po' cosa ha in mano una semplice spada invece l'altro ha quella lama gemella di Eleonora quindi è molto semplice, dirigetevi qui ma avete fatto e ragazzi grazie a tutti per questa visione un altro video sul canale che cadicherò in questi giorni sarà una spada diciamo più uno spadone spadone nel senso che ci prendiamo lo spadone di quel cane di guardia che troviamo sempre nelle catacombe ok quindi quel tipo di cane che sembra un felino con la spada enorme quindi caricherò anche questo video quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi lasciate like se il video vi è stato tutelissimo iscrivetevi al canale per non perdervi altri video su Elden Ring e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao